Vieni qua amico, vieni qua. Amor vieni, eh no poi mi emoziono, vabbè, vabbè, fammi pubblicità su Instagram. Allora regà, eh fidate, tanto è una tua, quindi se è brutta è colpa su a me. Allora, ma regà una certa sta con un'autostrada con un amico mio, è una persona sensibilissima, non puoi capire. Ma una certa, questo si ferma perché vede il neretto all'angolino che si stava a mangiare erba. Fermate, oh. Questo vi faccio che stai a fare? No, 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 io vi devo fermare qua. Questo è un chiodo, è tutto del botto. Se ferma, ho visto il nostro neretto che si stava a mangiare erba. Io fa, oh, ma che stai a fare? Io, avere fame, avere pochi soldi, io, mangiare. Ma fermate, oh, fratello, ma che stai a fare? Oh, che è a casa mia dove faccio io il pranzo? Eh, io no, perché io avrei anche una famiglia da sfamare, mia moglie. Oh, fermati. Prendi tu moglie e vieni a casa mia. Il pranzo te lo offro io. No, perché io voglio mangiare erba e ti avrei anche figli, cugini da sfamare. Oh, fermate. Io non ti posso dare così. Prendi tu moglie, tu figli, tu cugini e vieni a casa mia. A casa c'è un giardino con l'erba alta così. Grazie a tutti.